La terza uscita stagionale per i bianco-rossi del presidente Filippo Riantonio. La calcio d'angolo, va vicino al gol, Francesco Ranieri sull'angolo di Pietrantonio. Appena dietro Francesco Esposito, bello, la rasoiata di Cutilli per Touré. Ora bella, il lancio per Touré, Touré sull'out di sinistra, li va vicino Dos Santos. Dos Santos, ha dato pallone all'interno dell'area per Dos Santos, il brasiliano Esposito, Esposito. Faccio a Ranieri, si rinnova la sfida tra Ranieri e Pepe. Ora Bonfiglio, voleva il ballo, Bonfiglio, Bonfiglio, Bonfiglio e Saccomanni, ancora Saccomanni. Furlan, lungo per Degidio sull'out di sinistra, ottima la palla per Degidio, Degidio entra in aria, Stefano Degidio. La sblocca, Degidio al minuto 43, ottima la giocata dell'esterno. Ancora Forcini contro Massarotti, Forcini, Forcini. Lezione per il notaresco, sbracciata di Donato e c'è il pareggio del notaresco al minuto 22. Eh sì, c'è il gol di Forcini. Tra mercato Gardini, Gardini, Gardini. Bello il tiro dell'ex, guardiamo mano. Tanto Forcini ancora sull'out di destra, bella la giocata di Forcini. Mamma mia, che gol! E che doppietta di Forcini, minuto 36. Gol pazzesco. Si conclude qui il match, vince il notaresco 2-1 sul città di Teramo 1913. Doppietta di Forcini che ribalta il risultato dopo il vantaggio firmato da Stefano Degidio.